Salve Plisken, benvenuti ad una nuova recensione. Prima di iniziarla, come al solito, vorrei consigliarvi un canale. E il canale di Dave Nexil, che per qualche assurdo motivo mi sono dimenticato di pubblicizzare prima. Quindi, perdonami Dave, e voi andate a quaccavi sui video perché meritano veramente. Iscrivetevi e ditegli che vi ho caccaato io. Detto questo, iniziamo, ed è di nuovo Sobano di Spadalaser. Sobano di Spadalaser. Ho scoperto, grazie a voi e grazie a qualche ricerca, che ci sono un sacco di rime. Che poi tanto la cacca non è. È chiaramente un pezzo di cacca non è ritagliato. E io che mi lamento di... Numero 3 L'addestramento Guardate questo. Guardate... Ok. Questo... E... Per metà del penito non fanno altro che colpire... Moccia. Che male per giunta. Come potrei temblargli un addestramento e quei colpisci roti per tutto il tempo? Come potrei temblargli un addestramento e quei colpisci roti per tutto il tempo? Oh mio Dio!